L'ignoranza non è solo una questione di scarsa cultura, è uno dei mali incurabili dell'Italia, alla base di un costo sociale enorme e difficile da calcolare ma dagli effetti devastanti. Lo spiega bene il professor Giovanni Solimine, docente dell'Università La Sapienza di Roma e presidente del Forum del Libro, nel suo volume Senza sapere il costo dell'ignoranza, presentato presso la libreria La Terza di Bari. Il basso livello delle competenze e la scarsa specializzazione di molte figure professionali, anche di quella dei laureati, rendono per molti giovani difficile trovare lavoro. Noi pur avendo meno laureati della media europea, dei paesi più progrediti, abbiamo un tasso di disoccupazione intellettuale molto elevato, perché il nostro apparato produttivo non riesce a utilizzare le competenze, non investiamo sulle conoscenze. La colpa è in parte del cetopolito che dovrebbe investire di più sulla scuola, la colpa è delle famiglie, ma in generale del clima all'interno del quale si formano i giovani. Istruzione e ricerca costerebbero all'Italia meno di quanto pesa sul paese il costo della disoccupazione di chi per esempio finisce fuori dal ciclo produttivo e non riesce a rientrarvi. Investire sulla cultura costerebbe meno di quanto ci costa l'ignoranza, questo è il paradosso di un'Italia senza sapere. Il sistema produttivo italiano deve capire che deve puntare sulla qualità. Noi non siamo competitivi sul costo della manodopera, noi possiamo essere competitivi soltanto sulla qualità.